Ciao a tutti, sono Serena Limonta e nella vita sono un'attrice. Ho scelto il Pract, in realtà una persona mi ha fatto un grande regalo, io ero in America e questa persona mi dice, vieni ti devo fare un regalo grande, servirà per la tua vita, per la tua crescita, per la tua carriera. Ho detto ok, sembra una cosa molto figa e quindi mi ha portato e da lì mi si è aperto un mondo. E dico un mondo, PNL mi è arrivata proprio come una doccia di acqua, direi di qualsiasi temperatura. E da lì ho incominciato a capire, caspita questo oltre che alla vita e alle persone, alla famiglia, posso applicarlo anche nel mio lavoro ed essere più efficace. Quindi piano piano, all'inizio in maniera un po' lenta, però ho provato ad applicare queste cose ed è stata veramente un'illuminazione. Piano piano ho incominciato a applicare queste cose e vedevo che, diciamo un mese alla volta, mettevo l'attenzione su cose diverse, un po' come il consiglio che aveva dato Halle di, che ne so, quando vedete le interviste, guardate le persone che accessi oculari fanno. E da lì ho incominciato così, anche vedendo le interviste degli attori, per stare in tema. E da lì ho notato che tutto quello che veniva detto e insegnato, sapevo già che era vero, ma lo vedevo veramente nella realtà di tutti i giorni. E niente, quindi da lì è stata una curiosità costante. Ci sono stati dei momenti in cui l'ho usata di più, momenti meno, momenti in cui l'ho usata più in famiglia, in vari contesti e ho visto man mano l'efficacia di questa cosa, con gente che mi diceva cavolo, ma come ti esprimi bene, arrivi molto alla gente, anche per il lavoro che faccio. Dicevo, ok, sta andando tutto super. E Halle è la persona che, diciamo, mi ha proprio rapito nella PNL, nel senso che ovviamente c'è stato il boom di Bundler, ma poi Halle è quello che proprio mi ha come mostrato la strada. È una persona che ho porto molto a cuore, che stimo tantissimo, più che a livello tecnico e a livello di carriera, proprio a livello umano. E sono qua grazie a lui.